Piccoli atleti in campo con i preparatori del settore giovanile dell'Inter. Anche quest'anno a Sant'Orso di Fanno è tornato l'Inter Summer Camp, un'occasione unica di crescita e di formazione per 70 bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. L'iniziativa nera azzurra si è svolta dal 20 al 24 giugno nel campo sportivo di Via Soncino. Avete lavorato tanto per questo progetto che è tornato pure in questo 2022? Abbiamo lavorato molto, siamo molto contenti, dopo 4 belle giornate di formazione gratuita, tutti gli allenatori è stato un successo, possiamo dire. Siamo davvero contenti e la stagione si conclude con questo Summer Camp. Una settimana veramente calda, intensa, in cui anche gli stessi allenatori dell'Inter si sono divertiti. E la nostra collaborazione sta andando avanti molto bene, quindi siamo tutti molto contenti. Due gli allenamenti svolti ogni giorno, dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 17. A raccontarci di questa esperienza è stato direttamente l'ex calciatore Massimo Ciocci, direttore tecnico dell'Inter Summer Camp. Ecco, quindi si vede la voglia di questi ragazzi di stare all'aria aperta, di tornare a giocare insieme perché insomma hanno passato due anni difficili. Sì, sì, ma loro anche se gli fai fare 5 ore di allenamento continuo non hanno problemi. Quindi anche per noi è bello quando hai bambini che hanno voglia e anche per noi è tutto più facile. E poi giustamente devo fare anche i complimenti alla società Sant'Orso che ha messo a disposizione oltre che i ragazzi ma anche gli istruttori, lo staff molto qualificato. Avete notato qualche talento? Qualcuno c'è, anche perché l'Inter vuole che facciamo una relazione qualcuno l'abbiamo trovato, visto insomma, per quello che possiamo vederlo in una settimana. Però io tutti quanti, premierei tutti quanti perché tutti quanti sono venuti qui con voglia. La maggior parte sono interisti, mettersi la maglia per loro è anche più bello. Però soprattutto con voglia, giocano, tirano, fanno le partitine, anche le associazioni tecniche specifiche le fanno in un modo molto buono. Siamo contenti. Presenti venerdì mattina anche gli assessori Dimitri Tinti e Barbara Brunori. Assessore ha portato il suo saluto ai piccoli calciatori, rimarcando anche l'importanza del rispetto sul campo. Sì, il rispetto diciamo che è la base dello sport, proprio perché questo non è un campo solo da gioco, ma è un campo di vita. Attraverso lo sport si impara a diventare adulti, adulti migliori, perché si impara a dividere, si impara a star bene insieme. Oggi è una grande occasione quella che festeggiamo, perché il summer camp dell'Inter è un'occasione per i ragazzi per mettersi alla prova, per socializzare, anche perché nascono delle belle amicizie, visto che i bambini non sono solo di Fano, ma addirittura anche del Trentino, ma nello stesso tempo anche di misurarsi su quelle che sono le loro abilità. Sicuramente un giorno qualcuno di questi giocherà in campi molto più ambiti, ma questo voglio veramente ringraziare la società di cuore per il lavoro che sta facendo proprio su quello che è la formazione. La formazione è un altro degli assi chiave dello sport. Da scorso mese hanno formato quello che è un po' l'ambito degli allenatori. Oggi lo stanno facendo con i bambini. La formazione è trasversale, significa saper lavorare proprio sull'apparato sociale e umano delle persone, guidare le persone ad essere professioniste anche nell'educazione. Gli allenatori sono modelli per i bambini e quindi devono necessariamente trasferire dei valori inequivocabili, sani, proprio come lo sport. Per cui davvero è un'esperienza da ripetere, siamo alla seconda edizione e vorremmo continuarne tante altre.